Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione di tutti all'aperto. Non vedo quell'altro coglione dell'altra volta. Eh niente, ho fatto nocciolo un cavallo e quindi se senti male. Vedo che comunque c'è una testa di cazzo nuova. Sì, sono nuovo a Nuno, sono interessato anche al suo corso e sono venuto qui per imparare il più possibile. Piacere. Piacere, dottor Cuscietti. Oh, vedo che hai portato il materiale a corrente. Certo, magari poi. Puoi fornirmelo? Eh sì. Grazie. Allora ragazzi, state bene attenti, guardate come faccio io e poi dovete rifarlo. Aprire. Una bella gozzata. Caricare. Non è venuto bene. Ecco, ora mi sembra già meglio. Vai, provati, forza. Caricare. Ma che è sta cazzo? Non va a cagare vai. Ma ti ho dato io questi insegnamenti? Verdoso. Ci fanno schifo. Che cazzo è ora il telefono? Ma che cazzo voglio? Non ho capito mai. Ah sì, sì, ora, ora mi sembra di comprendere. Sì, sì. Ah, bene. Ah. Ah. Ah, no, perché questa cosa mi è andata di traverso. Non mi va bene così. Ma sai che? Vaffanculo, sai. Ah. 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 Fino a spessarmi il fiato, stronzi. Ah. Ah. Vaffanculo. Ah. Avete capito ragazzi? È tutta una questione di stomaco. Per oggi è tutto. Mi raccomando studiate perché mi incazzo. E quindi nulla. Alla prossima puntata. www.gionata.com Il nostro sponsor ufficiale. Ma che se può essere rotto? Ah. Ah. Ah.